Muoversi Meteo I venti ispireranno deboli da sud-sud-ovest tendenti a divenire moderati con locali rinforzi, soprattutto sul mare. E con possibili raffiche, il mare si presenterà mosso, tendente a mosso o agitato. Ma adesso diamo uno sguardo alle temperature che diminuiranno nei valori minimi, la visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense. Bene è tutto per ora, grazie per la cortesia e attenzione, vi auguro una buona serata.